In ogni caso ancora una volta un Natale diverso a come eravamo abituati negli anni precedenti perché ripeto tranquilli ma non troppo. È una fotografia profondamente diversa rispetto ad un anno fa quella che scatta oggi il primario di terapia intensiva e reanimazione dell'ospedale San Donato di Arezzo ma non siamo tranquilli ha detto ai nostri microfoni perché i casi sono aumentati in maniera vertiginosa. Il dato ospedaliero è sicuramente confortante soprattutto se pensiamo a quello che succedeva esattamente un anno fa. In questo momento noi abbiamo tre pazienti ricoverati in terapia intensiva due dei quali sono non vaccinati con comorbidità e una paziente ha completato il ciclo vaccinale delle due vaccinazioni è ricoverata in terapia intensiva Covid perché quando è entrata in ospedale è stato un riscontro occasionale la sua positività al Covid ma lei è ricoverata in terapia intensiva per altri problemi che non riguardano problemi polmonari di insufficienza respiratoria legati al Covid i suoi problemi sono legati ad un altro tipo di patologia certo è che non riusciamo ad essere completamente sereni e tranquilli visto comunque l'andamento dei casi che sono notevolmente aumentati parliamo di casi che sfiorano a questo punto i 40.000 giornalieri certo sono prevalentemente concentrati nella fascia di età under 18 noi come terapia intensiva storicamente abbiamo sempre visto gli effetti dei numeri una settimana 10 giorni dopo questo aumento dei numeri quindi è chiaro che non possiamo rimanere tranquilli e sereni vediamo cosa succede fra una settimana vediamo cosa succede tra 10 giorni